Il Ministero dell'Interno a più riprese ha sottolineato l'importanza di un'azione capillare da parte delle forze di polizia in un'attività preventiva, in un'attività investigativa che possa in un certo senso scongiurare le infiltrazioni o colpire le infiltrazioni che dovessero verificarsi. Sull'utilizzo dei recovery plan? Sì, proprio perché ogni euro che verrà inviato su questo territorio venga speso per il bene comune e per il bene della nostra collettività.